non vorrei che c'è qualche piccolo problema tecnico siamo siamo in onda comunque siamo siamo in onda siamo in onda allora qualche piccolo problema che risolveremo al più presto grazie a guanito servidio che si sta occupando insomma della parte tecnica è tornato anche il video sul nostro monitor siamo a posto adesso c'era un piccolo disturbo ma l'abbiamo l'abbiamo risolto non so se Pino Savaglia dalla regia centrale a Bisignano ci può dare conferma mentre vedete l'inquadrato il numero 11 orato praticamente gioca il numero 2 il numero 2 in porta e poi fino al 12 in campo vediamo un po' chi parte adesso vediamo la squadra insomma giallo blu è quella della olimpic rossanese in maglia arancione il real sant'agata sta per partire il nostro cronometro ovviamente siamo un po' in ritardo rispetto all'ora prevista alle 14 e 45 sono già le 14 e 53 quindi siamo con otto minuti di ritardo naturalmente questo non è di peso da noi mentre vedete inquadrata anche lo sponsor ufficiale della prima squadra ipso facto salutiamo il presidente stefano quintieri se può ascoltarci ecco ipso facto la sede legale direzione fra milano in monza presidente a 360 gradi intorno alla tua azienda e lo ricordiamo sempre con piacere numero 11 inquadrato di spalle e orato allora stiamo aspettando il fischio dell'arbitro ovviamente non sappiamo che problema che problema c'è per non iniziare questa partita stanno in quadra da quella parte abbiamo capito il motivo c'è un buco della rete che sta gabrile spinelli insieme a Piero spinelli il magazziniere stanno cercando di aggiustare in porta c'è il numero 22 allora non il 2 il 22 golluscio non c'è il numero 1 c'è il 22 e poi dovrebbero giocare dal 3 al 12 comunque i numeri dei magli ecco vediamo che Piero spinelli si sta danno dannando l'anima praticamente abbiamo scoperto il motivo del ritardo a un certo punto non capivamo poi ecco mi pare che ci sia ecco ci sono più persone che stanno stanno aiutando ecco sta facendo ecco ecco adesso lega una cucitura praticamente di queste a mano e non è andata bene però questa cucitura l'impressione che la porta si cioè il pallone lì potrebbe uscire per un caso entrare da quel buco e uscire fuori quindi a quel punto altrimenti ecco vediamo Piero spinelli c'è anche c'è l'arbitro con una di spalle con la tuta leggea lo vediamo in questo momento con la divisa vediamo cosa succede se riescono a vediamo il numero 3 eccetera il numero 10 e Calabro Calabro Francesco poi il 7 e Canotto proprio il capitano il 3 eccetera come dicevamo vediamo un attimo ecco che stanno cercando insieme a Gabriele Spinelli e anche il portiere con l'uscio si sta dando da fare insomma tutti che si danno da fare intanto voglio ricordare che oggi si giocano altre partite nel frattempo recuperiamo questo questo in questi tempi morti come si suol dire per dire che si giocano oggi ad Acri a Pasquale Castrovillari credo che sia già iniziata fra Calcio Acri e Juvenilia Roseto non so forse l'amico e collega Ciccio Spina sarà lì a Rossano Rossanese San Marco al comunale Stefano Rizzo e poi a Trebisacce Trebisacce Cassano Sibaris risolto e si è cominciato a giocare no ancora no quando praticamente si partirà cerchiamo di far partire il cronometro vediamo che tutto pronto l'arbitro signor Triglia di Rossano della sezione di Rossano vediamo si parte attendiamo il fischio partiti in questo momento Real Sant'Agata Olympic Rossanese si comincia a giocare vediamo un po' in possesso di palla Sicilia indietro verso uno dei fratelli El Amar ancora Gabriele Spinelli in possesso di palla poi maglia numero dieci vediamo che Sicilia in possesso di palla ancora verso Bruno Bruno gioca da difensore centrale ecco il numero sei Ibrahim Ibrahim è il sei a Juve il tre sono fratelli El Amar marocchini ma con cittadinanza italiana che vengono da Malvito e giocano qui a Sant'Agata dall'inizio del del torneo insieme a loro c'è anche Soleimè e Lamar che è in panchina e il Garn con numero quindici un altro marocchino e poi c'è Stroie che è un rumeno insomma quattro marocchini un rumeno niente male per una squadra composta da quindici calciatori in panchina c'è mister Cataldi ecco che si prosegue a giocare vediamo chi in possesso di palla un giocatore del Real Sant'Agata poi ancora Stroie si districa molto bene al centrocampo lui che è abituato a giocare nella prima squadra così come Ernesto Bruno ancora ecco c'è terra indietro verso il numero quattro che è Diaco ancora vediamo Sparta e Stroie cerca di farlo verso Martirani forse in fuorigioco Martirani in fuorigioco mi dice Guannito panchina ricca con quattro persone ci sono anche il rappresentante dello staff tecnico dirigente accompagnatore vicepresidente Vaccaro Raffaele Vaccaro e anche il responsabile tecnico Giuseppe Castellucci mentre sono quasi due minuti di gioco si poteva giocare qui al comunale di Sant'Agata la temperatura si è un po' abbassata ma fortunatamente non piove già questa è una notizia mentre Stroie a centrocampo cerca di darle a un compagno che è il numero 11 Antonio Bruno ma non vi riesce ci sono due Bruno in campo Ernesto con il 5 e Antonio Bruno con l'11 colpo di testa ancora di Antonio Bruno poi viene fuori palla al piede molto bene il numero 10 Calabro o Calabro non abbiamo visto l'accento quindi magari ci scuserete ma sulla distinta non c'era l'accento penso possa essere anche Calabro ma diciamo Calabro non ci sbagliamo mentre in panchina c'è la dirigente accompagnatrice che è praticamente la presidente la signora Daniela in panchina con l'Olympic Rossanese ecco Antonio Bruno in avanti verso Stroie Stroie attende al piazzamento dei compagni si libera un po' di avversari poi cede a uno degli Alamar poi Spinelli ancora all'indietro Spinelli verso Morante Morante che è anche nella rossa della prima squadra poi Bruno Bruno che si libera molto bene dall'alto della sua esperienza che sta maturando con la prima squadra ecco il nostro Bruno che va a lanciare ancora verso Daniel Florian Stroie numero 8 poi verso uno degli Alamar il 6 si chiama Ibrahim il 3 Ayub colpo di testa del numero 4 Diaco in fallo di fondo quindi in calcio d'angolo per il Real Sant'Agata che cerca la prima azione in avanti c'è qualcosa non so si allaccia le scarpe evidentemente aveva un problema vediamo chi sta chi sta battendo si si è calcio d'angolo vediamo chi sta battendo il 10 Spinelli Gabriele Spinelli sulla palla telecamera al centro naturalmente vediamo un po' chi interviene bene la palla viene ciccata da uno degli avanti del Sant'Agata peccato era l'occasione magari per cercare la via della rete non è andata così mentre c'è il numero un numero 2 abbiamo visto sulla distinta mi sembrava di non vedere comunque adesso vediamo i giocatori ecco ancora in possesso di palla il 10 Calabro poi verso l'11 che è orato orato forse probabilmente scalise il numero il numero 2 allora non è il 12 scalise il 2 scalise il 2 perché non vedo il numero 12 in campo il 7 e Canotto il capitano in avanti ancora verso un compagno che non trova per l'intervento di Gabriele Spinelli c'è un fischio dell'arbitro non abbiamo capito il motivo fallo laterale a favore a favore dell'Olimpico Rossanese sì è il numero 3 che ciò è indistinta eccetera ancora problemi di ricucitura della rete forse l'arbitro ha fatto fermare il gioco e naturalmente vediamo che ci sono eh Piero Spinelli l'altro signore forse qualcuno che lo andrà ad aiutare ricordiamo che siamo in onda sulla pagina Facebook Real Sant'Agata credo grazie a sportcom.tv ah deve aprire la porta deve uscire questa persona probabilmente non potrà stare in campo vabbè allora si prosegue a giocare vediamo un po ecco Stroie che va a rinviare si è perso un po' di tempo il numero 5 Giuranna che è intervenuto a liberare ecco il 2 che scalise scalise in avanti verso un compagno che non trova per l'intervento di Ayub Ayub e Lamar verso Antonio Bruno Antonio Bruno controlla la palla cerchi di darla a un compagno poi interviene sotto misura Calabro anzi sì Calabro ancora in avanti poi vediamo un batti e ribatti poi ancora questo tiro del numero 10 ospite che finisce l'MLM sul fondo va Gabriele Dicianni classe 2004 portiere titolare della Juniors e poi c'è Morante altro ragazzo Francesco Morante che gioca nella prima squadra cioè fa parte della rosa della prima squadra che va a rinviare difensore centrale insieme a Bruno quest'oggi Sicilia a destra Bruno e Morante centrale sulla sinistra gioca gioca Ayub poi al centro del campo vediamo che ci sono Leonardo Spinelli e Ibrahim Lamar Stroje e Antonio Bruno ah è fuori il mister probabilmente infatti ma sulla distinta non è scritto quindi probabilmente era o era squalificato oppure ha qualche problema non lo so perché in distinta c'era scritta soltanto la dirigente accompagnatrice Daniela Acri le distinte ufficiali che ci sono state date dal signor eh eh Triglia di Rossano la sezione di Rossano mentre questa è la e la dirigente accompagnatrice la presidente Daniela Acri che abbiamo conosciuto all'inizio ed è praticamente chi ha firmato la distinta come dirigente accompagnatrice e e e e e fin qui tutto normale evidentemente farà anche l'allenatrice oggi visto che l'allenatore è fuori insomma eh per un un qualche problema palla in due vediamo che ci sono il dieci che l'ha data indietro Calabro poi si prosegue a giocare vediamo l'Olympic Rossanese in possesso di palla ancora eccetera eccetera contrastato cerca di farlo Leonardo Spinelli poi c'è un fallo ai danni di Canotto numero sette capitano dell'Olympic Rossanese Olympic Rossanese che quest'anno si è dedita soltanto alla calcio giovanile visto che ha rinunciato a giocare l'eccellenza a favore della Lamezia Vigor Lamezia che è stato poi ripescato dal girone B di promozione alla all'eccellenza appunto vediamo che un pallido sole fa capolino qui al comunale di Santa Catarese ancora Canotto in possesso di palla cerca di contrastarlo il numero due Sicilia ancora Canotto in possesso di palla vediamo un batti e ribatti al limite della linea bianca laterale c'è il fallo laterale a favore dell'Olympic Rossanese il giallo blu oggi sono effettivamente i colori sociali anche del Real Sant'Agata che però obbligatoriamente ha dovuto mettere un'altra maglia perché nei campionati dilettantistici quando insomma la squadra che viaggia ha gli stessi colori è sempre la squadra di casa che va a cambiare con una seconda maglia ecco Ayoub Ayoub verso Sicilia Sicilia ancora in avanti e poi prosegue il numero undici orato ma ancora il numero due Sicilia recupera palla cerca di contrastare vien fuori palla al piede Sicilia molto bene a centro campo verso Martirani che era sceso a dar manforte a centro campo ancora cerca di ripartire Real Sant'Agata stavolta con Gabriele Spinelli che lancia sull'altra corsia Bruno. Bruno verso Ayoub sulla corsia di sinistra non riesce a mantenere la palla in campo e la rimessa in gioco è giallo blu quindi per l'Olympic Rossanese vediamo che c'è un altro fallo laterale per la rimessa in gioco di Scalise se il due è Golluscio allora vuol dire che non abbiamo capito chi è il portiere può darsi che sia Scalise il portiere allora perché sulla distinta c'è qualche problema insomma si prosegue a giocare dunque probabilmente il numero due è Golluscio e probabilmente il portiere Scalise a quel punto perché partono dal numero due non c'è portiere e quindi probabilmente Scalise sarà il portiere ecco Morante in possesso di palla la sventaglia colpo di testa di un giocatore ancora il Ibrahim poi scatta il numero sette Leonardo Spinelli è andato un po' insomma ha cercato di superarlo il portiere numero 22 tutto a posto si vanno a spiegare Leonardo Spinelli a questo punto Scalise penso sia il portiere perché se andiamo a guardare la distinta comincia dal numero due evidentemente c'è qualche problema non c'è il numero uno quindi evidentemente il 22 sarà il portiere scritto comunque poi faremo un po' d'ordine magari fra il primo e il secondo tempo intanto ecco Canotto in possesso di palla ma viene contrastato ancora esce fuori palla al piede dell'Olimpico Sanese poi di testa a Ayub Ayub verso Antonio Bruno Antonio Bruno in avanti contrastato poi riparte il numero sei tedesco numero sei tedesco palla fuori angolo no è fallo di fallo di un laterale quindi Golluscio Golluscio verso il numero otto che è Desimone Desimone si gira ma viene ancora contrastato in fallo di fondo quindi fallo laterale numero undici Bruno che recupera sventaglia in avanti a Campanile vediamo palla che termina fuori ancora per la rimessa del numero cinque tedesco sono tredici minuti di gioco ci sarà qualcosa sicuramente da recuperare parte il ritardo con cui si è iniziati ecco Martirani uncina questa sfera poi la perde ancora Ayub c'è una pozzanghera ma riesce a uscirne fuori ma poi c'è ancora l'Olimpico Sanese ancora batte e ribatti Antonio Bruno cerca di ripartire da Martirani Martirani in avanti anticipato da uno dei difensori dell'Olimpico Sanese numero quattro Diaco ancora riparte il numero dieci Calabro verso il nove che Domenico De Vincenti fallo laterale anzi calcio d'angolo c'è questo calcio d'angolo esattamente a quindicesimo del primo tempo va il numero sei tedesco a batterlo calcio d'angolo battuto in questo momento interviene Stroie Stroie fuori palla finisce a lato ecco ancora che si prosegue a giocare palla che arriva nei pressi di Sicilia che la rinvia verso Leonardo Spinelli parte di gran carriera o cerca di farlo il sette contrastato all'altro sette Canotto capitano dell'Olimpico Sanese l'arbitro fischia un fallo a favore del Real Sant'Agata che va a battere Francesco Morante numero quattro difensore centrale in avanti vediamo Uncina molto bene a questa sfera poi va Ayub anzi Ibrahim Ibrahim sulla corsia vediamo indietro verso Leonardo Spinelli palla che termina in fallo laterale c'è stato un contrasto poi un rimpallo e la rimessa dell'Olympic Rossanese vediamo che il numero cinque sulla palla Giuranna si appresta al rinvio che avviene in questo momento quasi a centrocampo Spinelli Leonardo verso Gabriele Spinelli ancora molto bene Martirani a sinistra verso Antonio Bruno che scende ancora Martirani che va quasi a chiudere il triangolo non ci riesce buona la volontà di questo ragazzo numero nove centravanti nipote di Luciano Martirani che ricordiamo con affetto il compianto Luciano Martirani sicuramente avrebbe avuto piacere vedere suo nipotino in campo a giocare e a difendere i colori della squadra del suo paese ecco Ibrahim in avanti verso Leonardo Spinelli ancora Leonardo Spinelli in possesso di palla cerca di darli indietro verso Gabriele Gabriele la intercetta poi indietro verso Sicilia Sicilia dribbling non riuscito ai danni di un avversario palla fuori si lamenta il numero dieci Calabro si lamenta ancora giocare ecco rinvia poi il l'Olimpico rossanese Comorante che la ferma a centrocampo verso Ayub Ayub non riesce poi a mantenerla in campo per l'intervento di Domenico De Vincenti che conquista palla forse c'è un fallo sì di Morante anche aiutato da Ayub è Lamar Ayub l'altro è Ibrahim è Lamar sono due fratelli marocchini il terzo in panchina Suleyman è Lamar ovviamente giocano ragazzi del duemila ad andare giù duemila due duemila tre duemila quattro il portiere per esempio duemila quattro Gabriele Dicianni che difende la porta del Real Sant'Agata mentre in questo momento c'è il calcio di punizione battuto dall'Olimpico rossanese vediamo questa palla colpita abbiamo visto il numero di maglia vediamo che vanno a disporsi in area i giocatori palla direttamente fuori ha calciato in porta ha calciato in porta al diciannovesimo del primo tempo 0-0 il punteggio partita equilibrata finora qualche occasione da una parte e dall'altra ma non eccezionale insomma Martirani non riesce a fermare questa palla poi Ayub di testa ancora Gabriele Spinelli fallo su Spinelli così ha detto è deciso Triglia di Rossano fallo evidentemente è un nome marinaro se viene da Rossano insomma ci scuserà ma è questo il suo nome insomma se uno pensa alle triglie pensa a qualcosa di succulento anche da mangiare a prescindere dal cognome dell'arbitro insomma un po' di gossip lo facciamo anche noi ci scuseranno i nostri amici ascoltatori in ascolto in visione su sportcom.tv grazie agli amici appunto del dello staff e poi sulla pagina facebook del Real Sant'Agata è la prima volta che andiamo in onda con i ragazzi della Juniors speriamo di farlo in altre occasioni ma oggi il tempo e poi gliel'avevamo promesso e come si dice ogni promessa è debito e avevamo così l'obbligo morale di farli contenti questi ragazzi che ci seguono anche durante la settimana attenzione dei vincenti uncina la palla ma poi aveva sbagliato forse Ayub eh sì Ayub probabilmente ancora non ha quelle tarasteristiche tecnico-tactiche che servono insomma un difensore per fare questa diagonale difensiva ci ci immedesimiamo insomma no primo campionato che fanno questi ragazzi non hanno fatto grande settore giovanile però ecco contribuiscono a fare un campionato Juniors che altrimenti il Real Sant'Agata non potrebbe fare quindi grazie a loro che si prestano per giocare e mentre Canotto in possesso di palla uno dei più attivi dell'Olimpico Rossanese e poi sventaglia verso il portiere che esce in presa blocca pur con qualche leggera difficoltà Gabriele Dicianni va a rinviare questa palla con le mani verso Sicilia Antonio Sicilia ancora verso Ernesto Bruno poi Ibrahim che perde un pallone con Canotto va orato e che sciavvalanga Gabriele Dicianni e salva errore di Ibrahim centrocampo applaudito l'intervento di Gabriele Dicianni Mentre si prosegue a giocare siamo quasi al ventiduesimo del primo tempo ovviamente 0 a 0 il punteggio fra Real Sant'Agata e Olimpico Rossanese qui al comunale di Sant'Agata Tesaro vediamo un po' cosa cosa succede in campo fallo laterale per l'Olimpico Rossanese poi batte e ribatte Antonio Bruno che finisce a terra poi si prosegue però a giocare nulla di grave rinvia Bruno ancora verso Canotto Canotto contrato da Leonardo Spinelli poi forse un fallo di mano sì l'arbitro ha visto un fallo di mano un giocatore del Real Sant'Agata qualcuno si è fatto male sì mi dice Guandomingo Guanito che qualcuno si è fatto male vediamo il numero di maglia adesso se riusciamo a inquadrare Antonio Bruno mi sembra numero 11 sì Antonio Bruno numero 11 ando largo ando largo ah c'è Raffaella Vaccaro che è andato in campo vediamo cosa succede insomma non si è ripreso ancora a giocare ecco che si riparte calcio e punizione dell'Olimpico rossanese tiro e para in tuffo molto bene Gabriele dicianni andando a sventare questa possibile occasione della Olympic rossanese 0-0 il punteggio quando siamo quando siamo giunti al venticinquesimo del primo tempo fra Real Sant'Agata e Olympic rossanese campionato juniores di appunto under 19 regionale vediamo l'arbitro Triglia di Rossano affischiato un calcio di punizione a favore della rossanese vediamo un po' cosa succede sulla palla il numero 7 Canotto che è il capitano mentre se ne va per conto suo tedesco ecco Canotto in possesso di palla la lascia poi ancora un compagno che è tedesco evidentemente si sono scambiati i ruoli ecco tedesco che sventaglia in avanti colpo di testa di Sicilia a rinviare ancora al centrocampo Canotto e Lamar Ibrahim poi Spinelli in possesso di palla Gabriele cerca di darla a un compagno che non riesce poi Gulluscio riparte ancora il numero 10 Calabro dell'Olympic rossanese maglia giallo blu per coloro di quali si potessero in ascolto in visione su sportcom.tv state seguendo Real Sant'Agata Olimpico rossanese valido per l'ottava giornata del girone A di campionato juniore standard 19 ecco Ayub rimessa sbagliata quindi si va a ripetere Gulluscio con le mani per l'Olimpico rossanese al compagno che è il numero 10 Calabro ancora l'Olimpico rossanese palla al piede buona questa incursione forse c'era un fallo non è stato di questo avviso l'arbitro ecco ancora Martirani e poi Antonio Bruno a campanile palla contrata termina in fallo laterale per la rimessa in gioco della Real Sant'Agata con Ayub anche Ayub sbaglia di nuovo la rimessa sbaglia di nuovo la rimessa Ayub e c'è uno dei tecnici Peppino Castellucci che va a richiamarlo in panchina per questi due errori consecutivi di Ayub ecco ancora palla al piede buona questa incursione dei vincenti dei vincenti in avanti verso e ancora il numero 10 Calabro e il campo è finito giustamente come dice il nostro operatore Guanito Servidio un buon pomeriggio a tutti coloro i quali si pongono in visione in ascolto in questo momento qui da Sant'Agata d'Esero stiamo trasmettendo questa partita in diretta streaming su sportcom.tv sulla pagina facebook del Real Sant'Agata si gioca appunto il ventottesimo tra Rossanese Olympic Rossanese maglia gialla con bordi blu quindi diciamo gli ospiti mentre il Real Sant'Agata con maglia arancione calzoncini neri calzettoni bianchi Real Sant'Agata che ha tre anzi quattro giocatori che appartengono agli under della prima squadra il numero due Sicilia il quattro Morante il cinque Ernesto Bruno Lotto Stroie due di questi Bruno e Stroie hanno praticamente giocato tutte le partite di promozione finora perché sono diciamo i punti fermi di mister Vaccaro per quanto concerne appunto la la prima squadra quella di promozione che ha 14 punti in classifica dopo 10 giornate perché deve recuperarne due il tiro stavolta un po' telefonato nelle mani di Gabriele Dicianni che ha bloccato in presa e rinvia stiamo facendo un po' un regalo a questi ragazzi della Juniors oggi per farli conoscere un po' a prescindere dal risultato qui il risultato c'entra poco c'entra l'orgoglio la dedizione la voglia di stare insieme di aggregarsi perché la squadra finora ha preso tre punti a Sant'Agata l'Olimpico Crosanese ne ha presi sei ma sicuramente ci sono squadre più preparate più pronte ma come primo campionato Juniors abbiamo voluto celebrare questi ragazzi perché se lo meritano perché sono ragazzi volonterosi sono ragazzi che fanno squadra oggi ne sono arrivati quattro a supporto insomma che arrivano dalla prima squadra e quindi in conseguenza c'è anche l'opportunità di fare un risultato di prestigio perché non lo scordiamoci insomma che l'altra squadra arriva da una piazza come Rossano che non ha bisogno di presentazione insomma l'Olimpico Crosanese ha rinunciato all'eccellenza sta facendo solo il campionato giovanile però a Rossano insomma c'è una scuola di calciatori non indifferente insomma rispetto a questo paesino di 1800 anime mentre Bruno praticamente l'ha tirato in bocca al portiere come si vuol dire questo paesino di 1800 anime che può giocare solo con la Juniors su questo campo perché non è idoneo per la promozione è costretto ad emigrare a Roggiano primo campionato di promozione e noi siamo orgogliosi di questo di farlo conoscere al nostro pubblico di farlo conoscere alla provincia di Cosenza alla Calabria e perché no ai nostri amici tifosi che sono in provincia di Milano e ce ne stanno tanti a cominciare dal presidente Stefano Quintieri a tutti gli amici di Seregno di Desio di Seveso di Barlassina a chi più ne ha più ne metta agli argentini che ci seguono anche col fuso orario abbiamo gli argentini amici di Juan Domingo Servidio lui che è argentino di nascita insomma abbiamo Mezzomondo che ci guarda ragazzi e quindi di conseguenza siamo orgogliosi insomma di questo perché è importante che questi ragazzi insomma diano il loro contributo a prescindere poi dal risultato è la prestazione è la voglia di stare insieme quella che conta allora nel frattempo siamo arrivati al trentunesimo abbiamo divagato un attimino ma giusto anche per tenere compagnia i nostri ascoltatori telespettatori qui in streaming si prosegue a giocare questa sventagliata molto bella stavolta Ayub ecco Ayub è la marra ancora che poi si fa anticipare dal suo dirimpettaio cade in aria martiranima si è trascinata un po' la gamba mezza ma secondo me più che fragile è stato un po' una cosa cercata ecco poi a quel punto poteva scapparci anche l'ammunizione per simulazione ma siamo a livello giovanile forse non c'è questa malizia ancora almeno in questi ragazzi poi ad alti livelli è diverso perché insomma il calcio di rigore spesso si cerca nelle categorie superiori a volte gli arbitri abboccano altre no adesso abbiamo il VAR o la VAR che si suol dire ma anche loro anche la tecnologia a volte è un po' più soggettiva che oggettiva insomma poi dipende dall'uomo che è davanti o dietro la VAR che dir si voglia insomma colpo di testa poi esce a valanga 10 anni ma ho mancato il colpo di testa Morante si prosegue a giocare Gabriele Spinelli forse trattenuto sì calcio di punizione a favore del Sant'Agata ci avviciniamo anzi siamo al 33esimo del primo tempo Francesco Morante uno dei due difensori centrali in maglia arancione che va a rinviare in questo frangente ecco il calcio del difensore centrale verso Gabriele Spinelli al centro è in ritardo Martirani più indietro Stroie Martirani che sta praticamente sostenendo tutto il peso dell'attacco perché qualche volta lo aiuta Stroie qualche volta lo aiuta Antonio Bruno Gabriele Spinelli però insomma una sorta di 4-5-1 quello di mister Cataldi collaborato dal tecnico Peppino Castellucci altro responsabile tecnico della Junior Sant'Agatese ancora Campanile Morante spazza la propria tre quarti palla fuori rimessa in gioco vediamo da un giocatore dell'Olimpico rossanese che è Gulluscio Gulluscio in possesso di palla ancora Ayub che sbaglia e poi Stroie cerca di ripartire ecco Daniel Stroie dall'alto della sua esperienza verso Antonio Sicilia ancora Stroie sulla corsia di destra cerca di liberarsi di un avversario poi Sicilia indietro verso Bruno Bruno in avanti ancora verso Sicilia Sicilia si gira buono questo triangolo ecco Ibrahim in avanti una puntata verso Spinelli ma c'è stato un fischio dell'arbitro un offside ecco con la mano alzata Triglia di Rossano che va ad indicare il il fuorigioco e si è ripartiti con il portiere Scalise che ha rinviato ancora questo passaggio a ritroso non potrebbe forse intervenire con le mani infatti interviene di testa il portiere l'estremo Rossarese mentre il nostro cronometro segna 35 minuti di gioco di questo primo tempo 0-0 il punteggio partita equilibrata poche occasioni da una parte e dall'altra non ci sono state grandi parate insomma interventi normali mentre va a tirare Antonio Bruno ma la ci abbatta in porta praticamente ecco occasionissima come quella dell'altro Bruno Ernesto diciamo che queste sono le due occasioni più clamorose tra virgolette per il Real Sant'Agati i due Bruno prima Ernesto poi Antonio qui bisognava tirare in porta con più decisione ragazzi d'accordo lo stare insieme insomma ma qualche volta qualche golletto faccelo vedere non fosse altro per lo spettacolo mentre vediamo che c'è un battibecco fra Canotto e Triglia insomma Canotto e Triglia Canotto e Triglia vanno d'accordo perché insomma uno può andare a pesca in Canotto e pesca una Triglia insomma l'abbiamo un po' detta così come ci è venuta allora numero 6 che è tedesco va a battere questo calcio di punizione per la Rossanese vediamo l'Olimpico Rossanese c'è una ribattuta ancora centrocampo Martirani indietro spizza la palla verso Stroie ecco Daniel Stroie che a centrocampo si fa largo serve Antonio Bruno sulla corsia di sinistra intercetta la palla Bruno ancora verso Aiub che si era avanzato poi Canotto riparte per l'Olimpico Rossanese va il numero 10 Calabro anticipato però da uno dei due difensori centrali fallo laterale per De Vincenti numero 9 Maglio numero 9 per l'Olimpico Rossanese ci avviamo quasi alla fine di questo primo tempo ecco ancora Calabro verso un compagno che non trova di tacco forse c'è stata una deviazione un rimpallo con Morante poi ha colpito di nuovo il numero 10 Rossanese quindi la rimessa è per Francesco Morante numero 4 uno di due difensori centrali insieme a Ernesto Bruno a centrocampo c'è il numero 8 De Simone che interviene sotto misura poi riesce a darli in avanti a un compagno ma c'è Bruno Ernesto Bruno che rinvia poi Stroie a contatto con il numero 4 Diaco c'ha la meglio e poi va a tirare di piede stavolta è buono l'intervento di 10 anni su De Vincenti si stanno un po' allungando le squadre chiaramente siamo quasi alla fine del primo tempo non sono più compatte come all'inizio di conseguenza viene fuori qualche azione qualche occasione di rilievo da una parte dall'altra vediamo ancora De Vincenti calcio d'angolo attraversa tutta la linea di porta e in porta va a segno va a segno all'Olimpico Rossanese su questa palla mancata da 10 anni 38esimo del secondo tempo del primo tempo scusate ha segnato il numero 5 Giuranna Giuranna ha portato in vantaggio l'Olimpico Rossanese lo avevamo detto le squadre più lunghe qualche errore da una parte o dall'altra va a dare il 5 al portiere Scalise e l'Olimpico Rossanese è passata in vantaggio e come si suol dire in questi casi gol mancato gol subito perché il gol di Antonio Bruno andava tirato in porta insomma con più decisione stavolta invece per un errore della difesa Santa Catese è andato a segno l'Olimpico Rossanese ci sta ci sta sono ragazzi come avrebbe detto qualcuno e bisogna accontentarsi insomma questa squadra che finora ha preso tre punti solo perché la Juvenilio Roseto qui non è arrivata non è giunta poi ha sempre perso ma ripeto anche riposato poi giovedì prossimo ci sarà il recupero col Marina di Schiavonea non giocato lo scorso 12 novembre per mal tempo altra giornata rinviata per l'allerta meteo così come quelle di domenica scorsa in tutto il calcio di lettanti calabrese eccetto la serie D dove per esempio a Corigliano si è provato a giocare in serie D ma poi la partita è stata comunque sospesa per impraticabilità di campo insomma ha imperversato il mal tempo con allerta rossa su tutta la penisola calabrese domenica scorsa oggi perlomeno si può giocare e il campo di Sant'Agata tiene abbastanza nonostante insomma l'acqua abbondante di questi giorni caduta specialmente nella giornata di domenica ma anche ieri fino a sabato diciamo che il terreno ha tenuto infatti gli anticipi anche di lettanti di promozione prima categoria seconda anche qualcuno di terza è un anticipo di eccellenza si sono giocati mentre poi non si è giocato più domenica per l'allerta meteo che la federazione italiana gioco calcio lega nazionale direttante di Catanzaro ha diramato sul proprio sito e che quindi ha impedito alle squadre già di partire perché sinceramente è stata una giornata apocalittica in alcune parti della Calabria ferma questa palla Bruno forse se l'è portata fuori si quarantunesimo del primo tempo si avvia alla conclusione questa prima frazione di gioco poi naturalmente ne approfitteremo per prenderci una pausa anche noi colpo di testa di Ayub ancora Spinelli ancora centrocampo vediamo recupera un buon pallone Daniel Stroje si libera di un avversario si gira e poi la cede l'Antonio Bruno vediamo questo finale del Sant'Agata se riesce perlomeno a creare questa buona occasione ecco Stroje Stroje in avanti ma c'è la difesa dell'Olimpico rossanese che fa buona guardia ancora si prosegue a giocare Bruno Scivola ne approfitta il numero 10 Calabro poi viene fuori Antonio Sicilia palla al piede classe 2000 under della prima squadra di promozione poi Antonio Bruno nuovo in possesso di palla verso Gabriele Spinelli che non riesce a tenerle in campo per l'intervento di un giocatore della rossanese Olympic rossanese e poi ancora Antonio Bruno con le mani vediamo chi serve uno dei compagni ovviamente Martirani cerca di uncinarla non ci riesce colpo di testa spizzato del numero 11 orato poi ancora Antonio Bruno l'altro numero 11 verso Gabriele Spinelli e Antonio Bruno la ferma in avanti ma rinvia senza pensarci troppo uno dei due difensioni centrali poi Ayub di testa indietro verso Morante Morante che spazza la tre quarti campo in avanti ma è la difesa dell'Olimpico rossanese ancora a liberare poi cerca di partire di vincenti sull'out di destra non vi riesce perché controlla la palla Ayub che termina fuori ancora Ayub e ancora controfallo evidentemente è un fondamentale fondamentale da imparare meglio caro Ayub colpo di testa anzi quasi con la me va a tirare un fendente questo nel numero 10 calabro applaudito anche dalle tribune dove c'è qualche sostenitore dell'Olimpico rossanese che ha seguito i ragazzi magari anche qualche genitore perché no insomma quando giocano i giovani è giusto dar manforte a questi ragazzi è giusto che chi viene al campo li incite a prescindere dalla prestazione dai gol è sempre bello vedere il calcio puro dilettantistico a questi livelli senza troppa animosità il fair play è quello che deve vincere a prescindere dal risultato insomma siamo in una categoria Juniores si viene anche per imparare magari dopo aver fatto anche le file trafile a giovanili non è per tutti così specialmente anche i ragazzi a Real Sant'Agata che si trovano catapultati nella Juniores dopo aver fatto poco settore giovanile mentre invece a Rossano sicuramente ci sono scuole calcio di diversa importanza Morante a terra Morante a terra speriamo non si sia fatto nulla di grave perché perché domenica mi sembra che Morante sia aggregato alla prima squadra nella trasferta a Caccuri anzi lo ricordiamo cercheremo di trasmettervi anche dal De Rose di Caccuri Caccurese Real Sant'Agata nella speranza che ci sia il bel tempo o che perlomeno non piova sappiamo che a Caccuri lo stadio è fornito anche da una bella tribuna coperta la squadra allenata da mister Bruno Caligiuri ex Roggiano lo scorso anno e tante altre squadre per il tecnico crotonese che ha è stato addirittura in serie D adesso insomma allena in promozione e noi saremo lì sperando di potervi trasmettere quest'altra partita del Real Sant'Agata così come sta avvenendo oggi per i ragazzi quarantacinquesimo ci sarà qualcosa da recuperare per il fatto della rete del buco alla rete che poi è stato è stato praticamente riparato vediamo il numero 5 autore del gol Giuran in possesso di palla che termina in fallo laterale ecco Ayub anzi Ibrahim Ibrahim Alamar naturalmente le stiamo chiamando per nome essendo due Alamar suona meglio Ayub e Ibrahim insomma Ibrahim che potrebbe sembrare anche qualcos'altro c'è un gamba tesa di Ayub Ayub deve imparare due cose attirare meglio i falli laterali e evitare questi 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 falli brutti insomma vediamo che l'arbitro prosegue a giocare sono già un minuto di recupero si prosegue a giocare 1 a 0 per l'Olympic Rossanese gol al 38esimo di Giuranna 0 a 1 per l'Olympic Rossanese Stroia in possesso di palla poi cerca di servire un compagno che trova nel capitano Gabriele Spinelli si gira molto bene stavolta attende il piazzamento dei compagni la cede ancora Stroia Stroia di petto la controlla e la dà in avanti ancora verso Antonio Bruno sulla corsia ma questo cross di Antonio Bruno da dimenticare davvero intanto Ciccio Spina da Acri comunica che la Juvenilia non si è presentata ad Acri 3 a 0 a tavolino ne prendiamo atto grazie a Ciccio Spina anche un collaboratore di Sportcom punto tv che si occupa appunto delle telecroniche dell'Acri finisce il primo tempo si va a riposo sull'1 a 0 per l'Olympic Rossanese gol di Giurana al trentottesimo del primo tempo noi andiamo a bere un tè caldo ci sentiamo all'inizio della seconda frazione grazie a tutti 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 sotto sotto grazie a tutti 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 in questo grazie a tutti 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 grazie a tutti